buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da forex trading pratico in collaborazione con il broker orbex stasera da come potete vedere anche dalle slide qui sopra andremo a scoprire quali figure e cosa sono in principal modo le figure di continuazione e le figure di inversione nel mondo del trading ricordo che ovviamente questi tipi di figure questi tipi di analisi che vengono fatte ogni giorno quotidianamente su qualsiasi time frame valgono non solo per il mercato valutario per il mercato del forex ma possono anche valere per il mercato degli invici per il mercato delle azioni e anche delle materie prime diciamo che sono delle figure comunque utilizzate sulla maggior parte dei mercati che giornalmente noi teniamo in considerazione in in breve cosa andremo a fare in questo webinar questo sarà il programma che seguiremo mi presenterò presenterò ovviamente orbex e il partner che sponsorizza questo evento vi ovviamente darò delucidazioni per quanto riguarda l'offerta riservata ai clienti ai clienti di gabriele valore e poi inizieremo il vero e proprio webinar ovvero dove andremo a capire quali sono e cosa sono le figure di continuazione quali sono e cosa sono le figure di inversione e andremo a vedere ovviamente dei casi pratici perché un conto è vederlo e vederlo solo vedere scusate tutto questo in teoria un altro conto invece è vederlo nella pratica visti direttamente sul grafico ok domande dubbi fino a questo momento credo che ovviamente non ce ne siano così che io continuerei nella presentazione allora mi presento ovviamente sono luca luongo trader indipendente e blogger freelance il mio blog è forextradingpratico.com e sono anche editorialista su una testata giornalistica molto molto importante come quella di trend online ormai calco i mercati da più di cinque anni dieci ore al giorno perché ovviamente è il mio mondo è il mio lavoro e di conseguenza posso dedicarmi anima e corpo a scoprire sempre nuove tecniche a scoprire sempre nuovi pattern grafici nuove figure eventualmente se ce ne fossero di continuazione e di inversione quindi per chi volesse conoscerne e approfondire ovviamente la mia conoscenza vado direttamente sul mio sito forextradingpratico.com e lì si potrà mettere in contatto oltre attraverso le varie chat di whatsapp che abbiamo in comune mi potrà scrivere anche attraverso l'indirizzo email o direttamente anche su skype mentre passo quella la parte più importante e vi presento anche il blog che è orbex non so quanti di voi già abbiano sentito vi faccio questa domanda abbiano già sentito parlare di questo broker ovviamente esclusi quelli che fanno già parte della nostra numerosa famiglia vediamo se ovviamente qualcuno ha già sentito parlare di orbex aspetto un vostro un vostro feedback perfetto ovviamente carla ha sentito parlare assolutamente invece se c'è ovviamente qualcuno di nuovo che sia ben chiaro non abbiate paura a scrivere a domandare perché siamo qui stasera tutti quanti per imparare perfetto già alcuni ne hanno sentito parlare io stasera vi do diciamo così una infarinatura ovviamente orbex è un broker regolato size che scusate qua c'è stato un errore di scrittura e anche registrato consom quindi siete tutelati sia a livello europeo ma anche a livello nazionale perché ovviamente la consom è quello che controlla comunque tutti questi broker che nascono come dico sempre come funghi ma di seri purtroppo li possiamo contare sulle punte delle dita io vi posso garantire con orbex ci collaboro oramai da più di un anno e mezzo e di conseguenza posso dire e posso anche essere fiero di quello che dico perché è un broker veramente se ha uffici in tutto il mondo dal quate italia cipro londra cina e anche argentina quindi e abbiamo varie sedi hanno varie sedi in tutto il mondo hanno 110 dipendenti e 15 mila sempre clienti in tutto il globo i principali principali fornitori di liquidità sono le principali banche mondiali con bs berkeley e commerce bank quindi capite che orbex è una multinazionale del trading se passatemi questo questo termine è ovviamente e si trova in tutto il globo terrestre ovviamente qual è il bello di orbex cosa può offrire orbex a voi in concreto prima di tutto spread stretti a partire da 0.8 su tutte le principali coppie valutari mondiali questo è assodato il massimo addirittura potete avere massimo 1.1 di spread sul cambio più importante quello più tradato da tutti i trader mondiali ovvero quello euro dollaro quindi trovare comunque degli spread vantaggiosi così vi posso garantire che è veramente difficile ovviamente per chi invece è appassionato di materie prime lo spread sul loro è di 0.2 quindi ottimo per chi anche volesse fare dello scalping o del trading intraday non avete rollover praticamente non sia rollover poche parole cos'è rollover praticamente e quando nel momento in cui voi investite su una su una determinata materia prima quante volte potrebbe essere già capitato che il dopo un po il contratto scada e voi avete quella determinata posizione su quella determinata materia prima e il vostro trade scompare del tutto bene quelle perché ovviamente sono dei contratti futures il broker sta usando dei contratti futures e di conseguenza hanno una scadenza e quindi vi portano poi all'estinzione del trade sia che essere in profitto sia che esso era in perda questo con orbex non succede assolutamente perché voi aprite una posizione oggi tra tre anni se la volete chiudere non avrete nessun problema sarà sempre e solo quella posizione lì che avete aperto un'altra cosa secondo me bellissima e fondamentale che ogni broker dovrebbe avere sono i prelievi prelievi molto veloci massimo tre giorni lavorativi quindi secondo me potete avere il potete avere veramente tutto quanto e con giustamente un un pacchetto che adesso vedremo insieme attraverso gabriella valore che vi può completare a 360 gradi la vostra esperienza nel mondo del trade detto questo vediamo qual è l'offerta clienti che ovviamente orbex offre a tutti quelli che si iscrivano attraverso gabriella valore prima di tutto conti vip con qualsiasi deposito fate conto che orbex offre i propri conti vip a tutte quelle persone che fanno un versamento minimo di 25 mila euro invece voi lo potete portare a casa questo conto vip ok al con qualsiasi importo che depositiate da partire dai classici 250 euro 500 1000 2000 e chi più l'ha più ne metta secondaria cosa non avete commissioni su nessuna posizione che aprite che secondo me è un altro bellissimo vantaggio per chi specialmente fa del trading intraday non avete swap quindi maggiori costi che vi vengono addebitati nel momento in cui andate ad aprire determinate posizioni e poi ultima cosa che secondo me è anch'essa importante e non da come posso dire da non sottovalutare ok sono i segnali di trading gratuiti nella chat che insieme a gabriele gestiamo ogni giorno verranno dati dei segnali dove così che possiate anche voi cominciare a fare incominciare a prendere i vostri primi profitti e a me a delle volte anche qualche perdita perché ricordiamoci che nel trading si guadagna ma a delle volte ci sono delle piccole perdite e di conseguenza potete mettervi alla prova con persone che comunque sanno e masticano questa materia da anni e ogni giorno e quindi anche voi provare a fare del trading sicuro perché non sono ripeto posizioni date così a caso avete fino a questo momento delle domande dubbi curiosità allora carlo mi chiede a me vengono applicate le commissioni come mai quello dipende da broker a broker carlo di conseguenza non non ti so dire con precisione a su orbex su orbex allora io ti dico il mio consiglio è domani contatto edoardo così almeno e faglielo ovviamente presente e di conseguenza vedrai che metteranno tutto a posto nell'arco di 24 ore ok perfetto anche anche te andrea senza problemi contattate eduardo se dovete contattarlo contattatemi a me in privato sulla chat di whatsapp tanto credo che siate nella chat di gabriele oppure chiedete direttamente a gabriele il contatto di eduardo scrivete e vedrete che risolverete il tutto in meno di 24 ore questo ve lo posso assolutamente garantire ok per quanto invece riguarda in generale avete domande dubbi per quanto concerne ovviamente l'offerta clienti che diamo a gabriele così almeno se avete domande cerchiamo subito di togliere qualsiasi dubbio rispondendo adesso in maniera live se no cominciamo poi l'argomento vero e proprio del webinar lo ripeto ragazzi sono conti vip con qualsiasi deposito il conto vip orbex lo dà solamente a coloro che a coloro che versano col minimo 25 mila euro ma invece voi perché gabriele giustamente ha fatto un ottimo accordo con orbex ha ottenuto questa condizione veramente con qualsiasi deposito non avete commissioni ripeto non avete swap avete addirittura un servizio segnale di trading che ogni giorno vi potrà far guadagnare qualche qualche euro in più quindi secondo me il tutto è veramente ottimo e va a vantaggio vostro ok visto che non ci sono al momento domande io passerei al webinar vero e proprio quindi se siete pronti ad iniziare io direi di partire senza alcun problema ok allora partiamo subito cosa sono le figure di continuazione abbiamo detto che questa sera in questo webinar andremo a vedere quello che sono le figure di continuazione e di inversione io parto con quelle di continuazione sono andato a prendere una definizione che mi è sempre piaciuta e che ovviamente ve la riporto a voi in questo slide ovvero che va a rispondere alla domanda che vedete qui sopra impressione sulla slide cosa sono le figure di continuazione non sono altro che delle figure che si trovano all'interno di un trend primario ovviamente bisogna capire sempre in base alla figura il trend in atto quindi se siamo in un trend rialzista o in un trend ribassista risulta utile quindi identificare eventuali momenti di pausa o di consolidamento quanto volte ci siamo trovati in un trend rialzista o ribassista che sia e cominciamo a vedere che il prezzo comincia a stazionare non va né al rialzo e né al ribasso beh in quei casi si dice che il prezzo sta attraversando un momento di lateralità di consolidamento quindi di conseguenza le cosiddette figure di continuazione sintetizzano in maniera eccellente questi momenti e noi attraverso le figure di continuazione saremo sempre pronti a sfruttare quello che potrebbe accadere da un momento all'altro su un determinato mercato valutario e come dicevo prima indice materia prima o azionario quindi ripeto nel momento in cui abbiamo identificato un trend abbiamo visto che il prezzo dopo un po dopo un bel rialzo incomincia a lateralizzare a prendere fiato ok non ci dobbiamo spaventare assolutamente ma in questi casi ci vengono in aiuto le figure di continuazione ok andremo andiamo a vedere quali sono le due principali figure di continuazione io ovviamente avendo purtroppo un'ora non posso stare a elencare e farvi vedere ogni singola figura di continuazione ovviamente non ci sono solo queste due figure il mio consiglio è quello di andare ad approfondire questo argomento ma vi mostro quali sono le due figure principalmente e spesse volte usate ok nel mondo del trading nel mondo dei mercati finanziari ed sono quelle dei triangoli abbiamo due tipi di triangoli abbiamo i triangoli simmetrici e i triangoli asimmetrici vi faccio una domanda ragazzi quanti di voi conoscono i triangoli simmetrici? quanti di voi conoscono i triangoli asimmetrici? quanti invece conoscono entrambi i triangoli? vi do un minutino per rispondere a questa domanda come vi dicevo se non sapete cosa siano i triangoli non c'è nessun problema siamo qui proprio apposta per imparare vediamo un pochino Carla mi dice ovviamente in maniera scherzosa in geometria assolutamente Yuri invece mi dice nessuno dei due nessun problema Tom il triangolo simmetrico Umberto mi dice inteso come figure geometriche sì assolutamente quella l'abbiamo tutti quanti studiati in tutte le varie scuole che abbiamo fatto poi Rodolf, Carla, Andrea, Barbiero scusami Rodolfo e Simone non hanno mai sentito parlare di triangoli bene adesso conosceremo anche Giacomo al momento, o ora scusate conosceremo quello che realmente sono questi triangoli partiamo con quelli simmetrici ok? vi ripeto che avrete la registrazione quindi se vi perdete qualcosa non vi preoccupate potete rivederlo senza problemi cosa sono i triangoli simmetrici? i triangoli simmetrici praticamente non sono altro che è la creazione di due trendline una rialzista e una ribassista in cui il prezzo si muove all'interno come c'è scritto dalla definizione e da come potete vedere anche dall'immagine che riassume il triangolo simmetrico long e il triangolo simmetrico short possiamo notare come i prezzi si muovono in un range all'interno di due trendline che solitamente noi chiamiamo trendline ma si possono anche chiamare supporto o resistenza dinamica che pian piano diminuisce praticamente noi partiamo dalla parte più ampia per andare poi al classico vertice ci hanno sempre segnato così alle scuole noi ci avviciniamo piano piano al vertice più ci avviciniamo al vertice e più è probabile la rottura da parte del prezzo della trendline rialzista o della trendline ribassista quindi questa figura segue sempre il trend come abbiamo detto nella definizione queste figure noi le troveremo sempre nel momento in cui abbiamo un trend ben delineato oppure all'inizio di un trend ed è il profitto, il classico target che noi andiamo a calcolare è dato dalla larghezza della base del nostro triangolo come potete vedere giustamente dalla figura da dove parte ovvero l'ampiezza del nostro triangolo la base che si viene a formare sarà poi il successivo target nel momento in cui il prezzo andrà a rompere al rialzo o al ribasso quindi a fine di questo slide andremo come vi avevo detto poc'anzi a vedere sul grafico vero e proprio cosa vuol dire triangolo simmetrico al momento limitiamoci ad avere questa nozione della nostra testa ripetiamolo triangoli simmetrici non sono altro che formati da due trendline una rialzista e una ribassista o anche dette supporto dinamico o resistenza dinamica e all'interno di queste due trendline il prezzo oscilla nel momento in cui il cross valutario che prendiamo in considerazione rompe al rialzo o rompe al ribasso si parlerà di conseguenza di triangolo simmetrico short oppure di triangolo simmetrico long ricordo anche questo piccolo aspetto più ci avviciniamo al vertice del triangolo simmetrico e più probabilità ci sono che il prezzo romperà da un momento all'altro la trendline ribassista o la trendline rialzista ok? Andrea mi chiede qualche volta però accade che il prezzo rompe il triangolo nella direzione opposta al trend principale assolutamente sì assolutamente sì il trading non è una scienza ovviamente esatta Andrea noi possiamo solamente basarci sugli strumenti che ci vengono dati e ci vengono insegnati da decenni io ti posso dire che i triangoli simmetrici hanno un'ottima percentuale di non profittabilità perché direi assolutamente una eresia ma un'alta percentuale di precisione nel momento in cui abbiamo individuato un determinato trend ovvio che nel momento in cui ci troviamo in una fase di lateralità che dura da diversi giorni lì non possiamo assolutamente utilizzare questo tipo di figura ma ti posso garantire che 70-80% delle volte il triangolo simmetrico comunque continuerà la direzione che ha intrapreso il trend vedo tantissime domande mi fa piacere questo Carla mi chiede come facciamo a capire se rompe in basso o in alto molto semplicemente quando tu vai a tracciare le trendline ma lo vedremo poi dopo senza alcun problema quando andiamo a tracciare le trendline nel momento in cui il prezzo rompe una classica trendline lì capiamo che il trend continuerà a rialzo o a ribasso in base ovviamente al trend primario ovviamente questo ci tengo a precisarlo ragazzi se noi siamo in un trend rialzista noi ci aspettiamo che il prezzo rompa la trendline ribassista questa qui ve la mostro questa qui se siamo in un perdonate questo qua questa qui siamo in un trend rialzista long quindi aspetto che ci sia un break da parte del prezzo a rialzo se siamo in un trend rialzista e il prezzo invece rompe il supporto dinamico o la trendline rialzista che è questa allora lì non entrate al mercato c'è qualcosa che non va sul mercato e state fermi mentre se il prezzo rompe ripeto la trendline ribassista e continua il proseguo del trend principale allora lì potete tranquillamente entrare al mercato Umberto mi chiede funziona su tutti i time frame ovviamente più ti abbassi i time frame e più in precisione ci sarà della figura ricordatevi che tutti i pattern grafici tutte le figure le continuazioni le versioni che siano più vi abbassate dei time frame e più ci sarà una minor percentuale di precisione più invece vi spostate verso time frame alti un'ora, quattro ore giornaliero daily weekly e mensile allora lì in quel caso avrete molta molta più precisione Tom mi chiede in un triangolo simmetrico ovviamente long dove va messo lo stop io solitamente questo ti parlo per per esperienza solitamente la vado vado a piazzare il mio stop loss ok nel momento in cui siamo in un trend long la vado a piazzare al di sotto ok oppure in concomitanza della trendline rialzista ok perfetto Andrea mi dice invece sì ma la difficoltà è stabilire su che tempi inserire nel grafico se daily o su quattro ore ovviamente nel momento in cui fate le analisi ragazzi non fatele su migliaia di time frame perché poi vi confondete solamente l'idea se il trend è ben delineato lo vedrete sia sul 15 minuti sia sull'ora sia su quattro ore sia sul daily quindi dove mettete il triangolo non ha nessuna assolutamente differenza perché il trend è quello quindi ovviamente se lo mettete su un time frame più basso anticiperete può essere qualcosina ma non vi cambierà quasi assolutamente niente ok perfetto mi piace questa vostra questo nostro scusate intrecciarsi di domande e risposte andiamo invece a conoscere i triangoli asimmetrici i triangoli asimmetrici invece come possiamo leggere anche dalla dalla definizione detti anche ascendente o discendente ascendente se siamo in una fase rialzista discendente invece se siamo in una fase ribassista in questo caso possiamo notare come si differenzia in modo netto questi il triangolo simmetrico e il triangolo asimmetrico perché perché avremo solamente una trend line in questo caso nel triangolo invece simmetrico avevamo due trend line che componevano la figura nel triangolo asimmetrico abbiamo solamente una trend line e un supporto o una resistenza in base ovviamente al trend se siamo in un trend ribassista avremo la trend line ribassista con il supporto mentre se fossimo in un trend rialzista allora avremo una trend line rialzista e una resistenza ovviamente statica ok anche in questo caso come comunque nel triangolo simmetrico avremo il prezzo che oscillerà all'interno della resistenza o supporto e della trend line ribassista o rialzista che sia ok sono molto semplici come figura all'inizio potreste fare un attimo di difficoltà a distinguere ma nel momento in cui ci prendete la mano li scoverete le scoverete ok senza veramente alcun problema ovviamente la presa di profitto il target anche in questo caso è data dalla larghezza che c'è tra il supporto barra resistenza e la trend line rialzista o ribassista che sia ovviamente anche in questo caso come per il target più ci avviciniamo al vertice del triangolo simmetrico o del triangolo asimmetrico ok più ovviamente probabilità avremo di avere una rottura da parte del prezzo al rialzo al rialzo in questo caso o al ribasso ok tutto chiaro ragazzi domande dubbi curiosità almeno vediamo un attimino cosa c'è ok allora mi dice adesso vi leggo un po' di domande Rodolfo mi dice per prassi si opera su un'ora o quattro ore spero ovviamente non sbagliarsi ma come faccio a capire che si tratta di una vera rottura del trend a mio favore di mercato oppure di un pullback ok allora Rodolfo in questo caso se non vuoi rischiare ok aspetti il vero e proprio pullback senza alcun problema ovvero cosa succede in questi casi succede che il prezzo facciamo conto siamo in un trend rialzista arriviamo ci si presenta davanti a noi il classico triangolo al simmetrico il prezzo rompe la resistenza e diciamo ok può essere una rottura decisa da parte del prezzo oppure può essere un un classico falso break da parte del prezzo perché ci potrebbe stare anche quello per non avere questi dubbi la mia esperienza vi consiglia di fare di aspettare il classico pullback ovvero pullback rispetto pullback sulla resistenza ok ovviamente il prezzo non deve tornare al di sotto della resistenza e poi ovviamente ripartenza del trend se tu non vuoi ovviamente rischiare giustamente allora puoi tranquillamente comportarti in questo modo rottura pullback e poi ripartenza del trend ovviamente in questo modo assolutamente non vai ad inficiare per quanto riguarda la figura ok per il semplice fatto che tu aspetti solamente il pullback perché il trend comunque sai che è rialzista e che la figura di continuazione indica principalmente una continuazione del trend rialzista spero di aver risposto alla tua domanda radolfo poi perfetto Carla invece mi dice quindi non una trend una trend line piatta ma devono appoggiarsi alla resistenza o supporto no sono Carla delle vere proprie supporti o resistenze ok non sono linee messe lì a caso sono reali supporti o resistenze poi ragazzi adesso sembra un po' difficile capirlo però quando vedremo i casi pratici vedrete che tutto sarà veramente molto molto più chiaro e lido ok bene continuiamo quindi abbiamo visto cosa sono le figure di continuazione si dividono in due parti triangoli simmetrici sono formati da due trend line ok una rialzista e una ribassista ricordiamoci sempre apro una piccola parentesi il trend di fondo deve essere comunque ben delineato e poi invece abbiamo i triangoli asimmetrici che sono invece formati da una trend line e da un supporto barra resistenza in base al trend che andiamo ad analizzare vi ricordo sempre che il prezzo deve oscillare all'interno di queste due figure e che il target dato da queste due figure di continuazione del trend sono date dalla massima ampiezza che c'è tra la mia trend line e il mio supporto resistenza o tra le mie due trend line nel caso in cui fossimo davanti ad un triangolo simmetrico ok bene detto questo io passerei ovviamente al secondo capitolo al secondo step del nostro webinar ovvero cosa sono le figure di inversione abbiamo parlato in continuazione già dal titolo invece in questo caso possiamo capire a cosa andiamo incontro anche in questo anche in questo caso vi ho vi ho dato una definizione chiara e precisa di cosa siano le figure di inversione in analisi tecnica le figure di inversione sono particolari figure grafiche che preannunciano ok preannunciano una inversione del trend in atto io avrei aggiunto a questa definizione una probabile inversione del trend in atto perché è probabile perché come chi mi conosce oramai da un po' di tempo sa che per me nel mercato nulla è assolutamente certo forse ve ne sarete accorti anche voi quasi sicuramente ma vi posso garantire che in questo caso la definizione in questo caso in questa definizione che vi ho appena letto ok io aggiungerei solamente una probabile inversione del trend perché ripeto non c'è assolutamente nulla di certo nel momento in cui andiamo a operare nel mondo del forex in quello dell'azionario quello delle azioni degli indici o delle materie quali sono le figure più importanti per quanto riguarda quelle di inversione anche in questo caso come vi ho detto per quelle di continuazione anche quelle di inversione ok ce n'è veramente tante anche in questo caso vi consiglio di andarle ad approfondire ma io vi ho preso quelle che solitamente sono le più importanti ovvero doppio massimo e doppio minimo addirittura delle volte arriviamo a triplo massimo triplo minimo e poi abbiamo questa figura un po' delle volte difficile da identificare nel momento in cui siamo alle prime armi ma in questo caso è il classico testa e spalla anche in questo caso ragazzi vi chiedo quanti di voi conoscono queste due figure mentre vi lascio anche in questo caso un minutino per scrivermi allora Andrea mi dice che le conosce tutte ottimo vediamo gli altri se ti seguono a ruota Giacomo invece nessuna delle due non c'è problema Carla invece sì tutte e due non significa che le so usare tranquilla adesso vedremo assolutamente Carlo invece mi dice di sì Rodolfo sì sentito però soprattutto testa e spalla ho difficoltà a individuarla ok sì testa e spalla è difficilissimo da individuare specialmente se si è agli inizi doppio massimo e doppio minimo sì Andrea sì madonna sapete tutto quanto ragazzi ottimo il problema applicarle moltissime volte vengono invalidate questo è anche vero Andrea come però ti dicevo come si suol dire nel mercato non c'è nulla di certo quindi è normale che a delle volte vengano invalidate invece Barbiero mi dice no non molto bene Marcello invece le usa spesso ottimo va bene ok perciò mi confronterò con voi partiamo con il classico doppio massimo doppio minimo ovviamente questo tipo di figure sono quelle che si realizzano molte volte nell'arco di un determinato ovviamente periodo e sono anche veramente semplici da individuare io dico a delle volte che c'è l'inflazione di doppi massimi e doppi minimi per il semplice fatto che specialmente un trader che si approccia da poco tempo ok noto che vede doppi massimi doppi minimi addirittura triplo massimi e triplo minimi dappertutto ok c'è ovviamente ci sono secondo me delle regole da seguire una in particolare sono praticamente ovviamente ve lo farò anche ve lo dimostrerò molto molto velocemente ma ovviamente i doppi massimi e i doppi minimi hanno una importanza maggiore nel momento in cui si trovano su dei supporti o delle resistenze di medio-lungo termine cioè su resistenze settimanali e mensili però questo poi avremo tempo per vederlo andiamo a vedere invece nel dettaglio quello che vuol dire doppio o triplo massimo o doppio o triplo minimo doppio o triplo massimo è quella condizione dove i massimi di alcune candele non riescono a superare un determinato livello di prezzo e di conseguenza si viene a creare una classica resistenza statica pensate a quello che vi ho appena detto quindi vicino a supporti e resistenza quando si vengono a creare dei doppi o tripli addirittura massimi siamo quasi certi anche questo invece è stata scritta in maniera giusta quasi certi che il trend potrebbe invertirsi da un momento all'altro stessa cosa ovviamente vale per il doppio o triplo minimo vi ricordo ragazzi e ve lo ripeto ve lo ripeterò fino alla nausea che il doppio massimo e il doppio minimo o triplo massimo o triplo minimo funzionano molto molto bene nel momento in cui ci troviamo davanti a supporti o resistenze settimanali o mensili certo che se voi usate queste figure su time frame a un minuto cinque minuti lo capite anche voi che hanno una validità veramente veramente scarsa ok hanno una precisione veramente ridotta quindi mi raccomando anche a come li utilizziamo e come utilizziamo le figure sia di continuazione che di inversione invece passiamo al testa e spalle quella che molti hanno difficoltà a individuarla quindi ci sta senza alcun problema il testa e spalle questo tipo di figura facciamo una piccola regressione prima di andarlo a spiegare ok è caratterizzata giustamente da una spalla sinistra spalla destra e poi da una testa ovviamente le fasi che precedono l'individuazione sono le seguenti quindi chi ha difficoltà vediamo se con questi tre piccoli passaggi riusciamo a a smussare qualcosa prima di tutto abbiamo una forte salita dei prezzi nonché anche dei volumi ok per poi ovviamente ritracciare noi facciamo un esempio classico abbiamo una partenza del trend rialzista si viene a carare un primo massimo e poi abbiamo il classico ritracciamento ok al 50 o al 61.8 di Fibonacci e quindi abbiamo la prima spalla poi altro sprint dei prezzi che vanno ovviamente a superare i precedenti massimi e anche questo in questo caso andremo ad avere un poi ritracciamento ok altra cosa fondamentale in queste figure voi vedete un testo a spalle molto molto preciso ma molte volte il testo a spalle può essere anche un pochino storto ovvero che la neckline ovvero questa linea azzurra ok sia anche un po' inclinata perché non è detto che il ritracciamento che va a formare la testa sia quasi passatemi il termine del 100% può essere anche del 61.8 giustamente ma come va a formarsi poi la spalla destra la spalla destra si forma con un altro piccolo sprint da parte del mercato ma che non va a superare i precedenti massimi e quindi la testa ok e successivamente comincerà la sua fase di declino quando è che noi entriamo a mercato entriamo a mercato nel momento in cui si viene a rompere si va a rompere la neckline ovvero questa linea blu ovviamente qui nell'immagine non non si vede ma anche nel testa spalle abbiamo una proiezione del target qual è la proiezione ovvero la distanza che c'è tra il massimo che ha formato la testa e la neckline ok in questo caso voi prendete questa distanza qui la proiettate nel momento in cui avviene una rottura e li saprete che quello può essere il target del vostro successivo trade ok nel momento in cui ovviamente qui specifico si deve tracciare una neckline che parte ovviamente dalla prima spalla che si è formata e si congiunge con l'inizio della seconda spalla il profitto come vi dicevo è dato dal target che vi potete calcolare senza alcun problema ovvero testa distanza tra testa e neckline e poi proiezione al momento della rottura della neckline ok domande dubbi curiosità ragazzi infatti vediamo qui ok allora questo Carla mi chiede ma il target maggiore si il target maggiore quello nel momento in cui andiamo a misurare la distanza ripeto che c'è tra testa e neckline quello è il target maggiore che noi possiamo ambire poi il prezzo può continuare la sua discesa ma al momento noi per quello che abbiamo nel momento in cui andiamo ad aprire la posizione e quello è il target che ci poniamo ok Marcella mi chiede time frame 4 ore allora i time frame ok specialmente come vi dicevo per tutte le le figure ovviamente più ci abbassiamo di time frame e più sono imprecise più ci alziamo e meglio è io ti dico il testa e spalle lo utilizzo molto molto bene su time frame 4 ore e giornaliere ok poi invece Simone mi chiede dove possiamo posizionare lo stop loss solitamente ovviamente se la testa e la neckline non sono molto distanti io ti parlo di un nel momento in cui andiamo a fare un trade multi day faccio un esempio ok nel momento in cui facciamo un trade multi day è la testa non è tanto distante dalla neckline cosa vuol dire 100-150 pip ok allora potete piazzarla lì ma nell'eventual case invece fosse superiore a questo range che vi ho dato beh allora il mio consiglio è quello di piazzare lo stop loss sulla spalla destra ok la spalla più vicina mettiamola così la spalla più vicina alla rottura ok altre domande dubbi ragazzi che vi vengono in mente tanto adesso andiamo a vedere dei casi pratici visto che comunque ci stiamo piano piano avviando verso la fine di questo webinar ok Tom mi dice alla grande allora Carla mi chiede Rodolfo mi dice sta metabolizzando ottimo Andrea mi dice tutto chiaro Carla invece mi chiede ma si usano solo la figura completata assolutamente sì diciamo che le figure sono anche io le metterei nella disciplina del trading perché fin quando la figura non è completata voi non potete fare un determinato trade ok facciamo un esempio del testo spalla non potete anticiparlo per il semplice fall per il semplice fatto ok che se la spalla destra non come posso dire non non si crea ok questa figura è invalidata non è una vera e propria figura di inversione del trend quindi di conseguenza non non può essere tradata come figura di continuazione ok perciò vi dico le figure di continuazione inversione mettono alla prova il vostro saper aspettare ok che si realizzi la figura ok carla invece mi chiede vorrei vedere in pratica su euro dollar sembra che ci sia un triangolo che ci sia il triangolo che il testo spalla ok che ci sia sia il triangolo che il testo spalla adesso tanto andremo a vedere abbiamo più di un quarto d'ora a disposizione per vedere tutto quanto Andrea invece mi chiede per individuarle che non sarebbe usare un indicatore cioè mi chiedi Andrea mi stai dicendo per individuarle se potrebbe usare un indicatore assolutamente no non c'è nessun indicatore che te le individui ovviamente se scriverai un se scrivi o può darsi qualche programmatore lo abbia automatizzato questo non te lo so dire fino al momento le trovo veramente se fate parecchi allenamento le trovate poi veramente velocemente poi Simone mi chiede quindi nel caso lo stop loss si posizionasse all'altezza della testa il rapporto rischio rendimento sarebbe di 1 assolutamente sì perché è il target ok mentre nel momento in cui tu lo posizioni sulla spalla destra vai a prenderti un rischio rendimento maggiore ok molto molto semplice perché tu il target lo tieni sempre cioè la distanza tra testa e neckline ma nel momento in cui vai a posizionare lo stop loss sulla spalla destra mantieni comunque il target che tieni prefissato all'inizio ok quindi se siete pronti direi di andare a vedere io ve le ho messe un attimo in ordine così che da non creare ho già cercato delle figure ma le cercheremo poi insieme e ci divertiremo insieme ho visto ho già messo scusate ho già analizzato un po' scandagliato il mercato su alcuni cross valutari e ho già posizionato alcuni tutte le figure che abbiamo visto sia di inversione che di continuazione che abbiamo visto fino a questo momento ok allora quindi eccoci qui ditemi se vedete il grafico dategli qualche secondo solo per per vedere ok perfetto allora partiamo con questa figura terrò la chat aperta così almeno posso vedere vi faccio la domanda che figura è via ditemi un pochino così almeno vediamo se avete capito almeno avete in testa le figure questa che figura è triangolo va bene Andrea dammelo dammi più precisione ok triangolo asimmetrico short no Tom questo è il triangolo invece simmetrico testa e spalle no Carla assolutamente triangolo simmetrico Yuri perfetto Andrea ok questo è il classico triangolo simmetrico testa e spalla assolutamente no ragazzi testa e spalle perché qui avremmo la testa qui la prima la prima spalla testa ma dov'è la seconda è qua sotto no più o meno deve essere alla stessa altezza ok e non ovviamente così ravvicinata questo è un classico triangolo simmetrico vedete come il trend di fondo comunque io lo stavo analizzando su 30 minuti il time frame qui possiamo notare come abbiamo un trend comunque discendente iniziato l'otto di l'otto di settembre ok siamo al 13 15 quindi sono passati già un paio di giorni e possiamo notare come il trend una delle due trend line è ribassista l'altra invece è rialzista e nel momento in cui ci siamo avvicinati al come posso dire non mi viene la parola comunque ci siamo avvicinati all'intersezione ok vedete come poi il prezzo ha preso una decisione ovvero andata al ribasso ok questo è il classico triangolo simmetrico allora il target qui non riesco ad identificarlo perfetto grande Andrea allora il target in questo caso io lo prenderei come distanza che c'è tra la tra l'inizio della trend line ribassista ok e diciamo il passate il termine il tocco ok lo farei partire dalla trend line rialzista fino ad arrivare all'inizio della trend line rialzista all'incirca sono 95 pip ok vediamo adesso dalla rottura ok quante pip ha macinato già il cambio euro dollaro siamo arrivati a 87 più o meno meno di 10 pip ci mancano per raggiungere il target quando avete queste situazioni qui prendete sempre l'inizio della trend line rialzista e ovviamente la proiezione di conseguenze quindi fate conto di mettere una squadretta di tracciare la base del triangolo e qui sapete la proiezione o il target che vi aspetta ok allora in che senso Andrea ma se avessi avuto un altro inizio ah ovviamente sì sarebbe il caso opposto della trend line rialzista sì sì assolutamente non puoi assolutamente però prendere in considerazione questa qui ok perché qui ti manca la chiusura del triangolo ok non hai chiusura mentre se invece ti basi qui vedi che con questa proiezione che ti sto facendo con il mouse qui hai la chiusura del classico triangolo ok ah ma solitamente i due punti ce li hai solitamente i due punti ce li hai per identificare una trend line ti potrei tracciare migliaia di trend line in questo in questo segmento ovvio che se non puoi inventartela ok non puoi inventarti ricordatevi questa grazie Andrea per aver dato questo spunto non potete inventarvi trend line se non ci sono non ci sono ok se non avete i punti non ci sono quindi non si viene a creare quel tipo di figura se ne verrà a creare un altro ok si prendi la distanza massima per il target assolutamente distanza massima però ripeto data dalla dall'inizio di questa trend line rialzista al tocco della trend line ribassista ok passiamo all'altra questa cos'è vediamo un attimino vi aspetto vi aspetto volendo addirittura potremmo far così così ve la metto ancora meglio voilà ok eccoci qui addirittura potremmo avere un triangolo qui vedete comunque come ci sono parecchie soluzioni sempre bravissimo Andrea simmetrico idem di prima triangolo simmetrico Giacomo ottimo però rialzista adesso infatti vediamo il rialzista triangolo simmetrico perfetto in questo caso non ci proviamo il problema prima Andrea in questo caso il problema come per il target ok è qui voilà questo è il nostro triangolo quindi sono all'incirca 124 124 pip di profitto andiamo a vedere quante ne ha fatte al momento ne ha fatte 97 gli mancano più o meno una passatemi il termine arrotondo un pochino gli mancano una ventina di pip ok non assolutamente impossibile ok quindi avete visto come i triangoli simmetrici veramente sono semplici semplici da adottare vi faccio un esempio proprio qui in diretta l'ho visto adesso eccolo qua questo è un altro triangolo voilà molto semplice individuato veramente in pochissimo tempo fate esercizio fate allenamento ragazzi perché poi li individuerete così senza neanche pensarci sono 154 pip nel momento in cui il prezzo ha rotto abbiamo aspettato la conferma abbiamo avuto comunque questo bellissimo candelone e via abbiamo fatto più o meno 65 pip avremmo fatto poi lo stesso avremmo fatto addirittura 125 pip ma avremmo raggiunto comunque sempre il target ok avremmo avuto questo ritracciamento verissimo ma si veniva a formare poi di conseguenza un altro triangolo simmetrico ok tutto chiaro? andiamo avanti così almeno non ci limitiamo e fossilizziamo su una determinata figura ok chi mi sa dire cos'è questa? aspetto vostre risposte questa linea è una resistenza eh così almeno no Yuri invece si Umberto si Andrea Carla non so cosa vuoi dire con quel non c'è doppio massimo negativo assolutamente no Rodolfo Andrea del Moro invece asimmetrico assolutamente si adesso vela Andrea anche ottimo triangolo asimmetrico eccola qui trend line e resistenza io ve l'ho fatta anche qui su un time frame 30 minuti ve l'ho evidenziata in maniera molto molto veloce ovvio questa resistenza qui non so neanche se comunque una resistenza in medio e lungo termine per trovarvi comunque un esempio ma vi ho spiegato già che i migliori triangoli asimmetrici sono quelli che hanno comunque una resistenza o un supporto in medio e lungo termine ma qui solo per farvi vedere l'esempio perché il tempo comunque è quello che è quello che abbiamo a disposizione di conseguenza resistenza vedete qui ha toccato una due tre volte il trend è nettamente rialzista target andiamo a identificalo il target parte da qui e arriviamo qui sono più o meno 190 pip 190 pip a partire dalla rottura dal break voilà scusate sono 117 pip ci mancano all'incirca un'ottantina di pip ma saremmo già in profitto quindi di come posso dire di sistemare il tutto nel senso portare a break even o chiudere metà posizione e via dicendo ne avevamo di tempo di conseguenza in profitto eravamo potremmo chiudere metà posizione lasciarla correre e ne ammettere dedicarci ad altre posizioni ok e non per chiedere un po' allora il triplo massimo è stato invalidato ok mi dice Andrea ditemi solo dove può essere il triplo massimo così almeno vediamo vediamo un attimino io sinceramente non lo vedo voi dite questa figura qui cioè dove c'è la resistenza no allora il supporto dinamico rispondo a Tom ma quando rompe il supporto dinamico bisognava chiudere no assolutamente il supporto dinamico ci serve ok per identificare questa figura poi se fai del trading con solamente del trade online perché c'è chi fa del trading con le trend line ok in questo caso ok potevi chiudere alla rottura mentre se ti limiti solo a creare la figura io qui purtroppo non ho il segmento ok che mi possa dire mi possa far fare la classica tracciare una linea da qui al punto di incrocio ok nel momento in cui invece avessi avuto questa funzione qui vi avrei tracciato questa trend line è rialzista solamente fino all'incrocio con la resistenza ok poi come evolve successivamente a noi se o rispettare la trend line a noi non ci interessa al momento e perché non può essere Barbieri invece mi chiede perché non può essere un triplo massimo e inversione del trend allora vediamo il perché io sinceramente non non ci sono stato più di tanto allora questo si può essere tracciandolo anche qui un supporto o resistenza allora facendo un'analisi molto spiccia passatemi il termine qui noi potevamo avere eccola qui un classico triangolo ok ho anche un triplo massimo un triplo massimo io sinceramente facendo uno zoom in adesso lo vedo insieme a voi non non lo vedo più di tanto nel senso che allora facciamo così perfetto al massimo poteva starci un doppio massimo ma se voi vedete come il prezzo comunque reagisce ok voilà questo era un classico triangolo di lungo termine ok qui si ci poteva essere un un doppio massimo assolutamente però è stato invalidato da due figure il doppio massimo diciamo che ha avuto la meglio il rialzo perché avevamo un triangolo simmetrico e il prezzo ha rotto al rialzo avevamo un triangolo asimmetrico perché ve l'ho fatto vedere perciò avevamo due figure di continuazione contro una di inversione io dico vado sempre per la maggioranza al momento io mi sarei più dedicato al rialzo che al ribasso ok poi perfetto anche sì non abbiamo rotture di minimi qui addirittura abbiamo una fase congestionata quindi sinceramente non è un bello come doppio come doppio massimo io sinceramente le utilizzo poco i doppi massimi i doppi minimi i tripli massimi i tripli minimi io se ho dei dubbi ok cerco altre figure ve lo do come consiglio cercate altre figure se al massimo non ne vedete boh allora quel doppio massimo doppio minimo triplo massimo triplo minimo va più che va più che bene ok andiamo avanti che sennò poi qui andiamo per le lunghe ok questa cos'è così almeno vediamo un attimino datemi una no figurati Andrea ci mancherebbe questa cos'è ragazzi una caporetta bravissimo Rodolfo chi ha preso questo bellissimo ribasso adesso sarà su qualche bellissima spiaggia asimmetrico short bravissimi triangolo asimmetrico anche qui non vi sto a qui il trend era nettamente ribassista io ho preso questa questa trendline perché mi piaceva particolarmente quindi non ce neanche non mi metto neanche lì a spiegare oramai sapete tranquillamente come identificarle vi faccio vedere come il target forse sia stato preso 294 pip qui abbiamo avuto un crollo devastante da parte del mercato se noi ci fossimo messi alla chiusura di questa di questo mega candelotto siamo su west di cambio quindi quando c'è stato settimana scorsa il rialzo tassi da parte della bank of canada qui saremmo già 171 quindi ci mancherebbero ancora 100 pip ma non diventiamo avidi come dico sempre 170 pip di profitto comunque non erano assolutamente male più del 50% della posizione andiamo a vedere invece figure di inversione ok questo cos'è ve l'ho pure evidenziato secondo me è il migliore questo quando vedete queste cose qui secondo me sono le miglior cose possibili ok adesso voi mi farete ma Luca ma non ha invertito il trend ma la vi blocco poi perché quando vi fate queste domande mi piace tantissimo doppio minimo assolutamente sì ma voi mi dite ma Luca ma non ha invertito il trend ok io penso che i doppi minimi e i doppi massimi possano essere utilizzati anche per una continuazione del trend e non solamente inversione perché molte volte vedrete che avrete delle figure se andate poi ad approfondire questo argomento e ve lo consiglio ok che a delle volte possono essere usate in entrambi i casi vi ho messo in difficoltà lo so ok però in questi casi preferisco mettervi un pochino più in difficoltà dove però possiamo discuterne insieme anziché andare a vedere la classica figurina dove vi faccio vedere sì questo è un doppio massimo vedete ha invertito in questo caso è vero noi arriviamo da un trend di rialzista ok dobbiamo cercare un doppio massimo ma secondo me questo doppio minimo che si è venuto a verificare adesso ve lo ve lo zoomo anche così almeno potete vederlo un pochino anche voi meglio eccoci qui questo doppio minimo ci ha dato una conferma di quello che stava succedendo ovvero nel momento in cui il prezzo avesse rotto al rialzo visto che arrivavamo da un trend rialzista il questa resistenza ok avevamo anche la conferma di questo doppio minimo che si era venuto a creare ok diciamo che il doppio minimo secondo me è una di quelle poche può essere anche utilizzato questa questa comunque è una mia idea personale che sia che sia ben chiara ben chiaro può essere usato anche come figura di continuazione vediamo se ho visto qui ecco invece in questo caso vedete come il prezzo ok sia in questo caso abbiamo un doppio minimo che ha invertito ok siamo su un time frame orario che ha invertito il trend arriviamo da un trend ribassista perché questo come potete notare non credo ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni ma qua siamo arrivati in un trend ribassista e vedete come il prezzo qui ha incominciato a tentennare come dico io nel senso che qui ci ha provato una volta ma poi non è andato giù qui ci ha provato addirittura tre volte in maniera molto ravvicinata niente qui è andato giù ma poi è tornato su e poi infatti cosa è successo ha invertito il trend andiamo a vedere un pochino più da vicino e vedete come eccolo qui questo doppio minimo uno e due ok abbiamo avuto un bellissimo doppio minimo e il prezzo è andato alle stelle tutto chiaro? ok perfetto ok tutto chiaro ragazzi per quanto riguarda doppi massimi e doppi minimi io ve lo dico sinceramente potete utilizzarle sia come figure di continuazione che come figure di inversione ok tutto qua ok adesso andiamo a vedere l'ultima figura visto che oramai siamo vicini alla chiusura del del webinar arriviamo su il classico e famoso testa e spalle vedete come in questo caso abbiamo siamo sul time frame 4 ore mi sono spostato di time frame siamo sul dollaro americano dollaro canadese la bellissima testa la bellissima spalla e la bellissima spalla qui anche qui mi aspetto delle domande del tipo ma Luca ma non devono essere simmetriche? no assolutamente no nel momento in cui abbiamo due prezzi che si trovano uno e due si trovano sulla stessa altezza e abbiamo un massimo che sta al di sopra di queste due spalle allora si può considerare un testa e spalle anche se qui abbiamo da qui a qui abbiamo una determinata distanza e da qui a qui ne abbiamo un'altra ok? ovviamente anche in questo caso target dal massimo alla neckline che questa linea bianca è la linea della neckline dal massimo alla neckline sono 386 pip come vi dicevo poc'anzi quando fate un multi-day del genere ok? il mio consiglio è di non metterlo a 300 pip lo stop loss ma di metterlo ok? sulla spalla che è vicina alla rottura in questo caso avevamo un target di 386 pip vedendo il grafico l'abbiamo rispettato alla grande visto che poi abbiamo avuto un calo di addirittura 1300 pip quindi il target è stato rispettato e abbiamo ottenuto un ottimo profit factor ovvero abbiamo avuto un rischio di rendimento maggiore all'1 ok? ok in quel caso no Andrea credo di averti già risposto nel mentre stavo spiegando non può essere questa e non può essere questa immaginatevi sempre un essere umano ragazzi un pochino asimmetrico nel senso come distanze ma come corporatura fisionomia testa e due spalle non può essere qui la spalla per il semplice fatto che se no non sarebbe un testo e spalle poveretta andrebbe in giro tutto storto ok? immaginatevi sempre un essere umano testa e spalle pure se la distanza dalla testa è ravvicinata quello a noi non ci interessa ma che siano almeno le due spalle allineate ok? bravissima bravissima Andrea bravissima ignora non ha non ha senso e quando è questa figura completamente invalidata nel momento in cui il prezzo questo qui o quello vicino uguale questo qui fosse andato oppure avesse superato il massimo che si trova della spalla ok Carlo mi dice sul 30 minuti è giusto vedere un testa e spalla andiamo subito a vederlo su euro-dollaro sul 30 minuti testa e spalla sinceramente io al momento non vedo può darsi che sia in formazione assolutamente guarda qui te lo faccio vedere può essere in formazione nel senso testa e spalla voilà testa se si arresta ok? la sua la corsa l'euro-dollaro uguali non so perché stasera mi esca uguali e poi se il prezzo mi storna ok fin qua giù e poi mi torna più o meno a questa perdoni allora se mi torna a questa altezza qui più o meno ok allora sì lì si è venuto a formare un testa e spalla ma prima io sinceramente adesso non non li vedo ti dico sinceramente allora te lo rispiego Carlo ve lo rispiego perché ha perso la connessione io in questo momento io non vedo nessuna testa e spalla al momento posso vedere una formazione di una spalla che si è venuta a formare poi è tornata su ha ritracciato è tornato giù il prezzo al momento se il pezzo si fermasse qui non andasse oltre possiamo parlare e ritracciasse ovviamente possiamo parlare della formazione di una testa poi piano 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 ritraccia fino volendo a questa trendline il pezzo torna in quest'area ma poi non va oltre allora lì sì abbiamo avuto la formazione di un testa e spalla però ripeto al momento io non vedo nessuna formazione di un testa e spalla poi darsi che non la veda io tu invece sì allora ok adesso allora ve lo zoom così almeno lo vedete meglio eccolo qui voilà eccoci qua spalla poi è tornato su testa se si ferma qui e poi tornerà nuovamente su e di conseguenza qui mi aspetto un'altra spalla ah ok ok non vedete il mi confermate che vedete euro dollaro oppure USDCAD ancora ok perfetto dategli sempre qualche qualche secondo qui vedete testa scusate spalla testa e qui mi aspetto un'altra spalla ok perfetto ok ok dai siamo arrivati a questo webinar molto molto bello insieme a voi interrompo adesso la registrazione per alcuni possiamo ancora fermarci 5 minuti per vedere alcune situazioni vi ringrazio per aver partecipato vi do appuntamento al prossimo webinar con il sottoscritto Luca Luongo forextradingpratico.co in collaborazione con Orbex vi aspetto non mancate ciao ciao